Molte volte andiamo un po' alla leggera a quello che noi diciamo, invece dovremmo sempre avere tanta attenzione ad ogni singola parola che esce dalla nostra bocca. Ogni nostra parola, se non lo sappiamo, dura in eterno. La nostra parola è aria e l'aria si propaga nell'universo così tanto quanto è grande. Quindi quando diciamo qualcosa, in breve lo stiamo dicendo per sempre. Non è male che Dio ci perdona per le cose sbagliate che noi diciamo. Alleluia. Sapete, a proposito di sveglia, il pastore stava parlando, il fatto che a volte Dio ci sveglia magari durante la notte o ci svegliamo noi durante la notte con un cantico. Io ultimamente mi sveglio con un pianto, perché non è il mio pianto, è il pianto del bambino che abita accanto a me. E tutte le mattine verso le 5, 5.10 lui si sveglia e pianta. E io sento come pianta. Però non avevo fatto caso fino a qualche minuto fa che effettivamente ogni volta che mi sveglio è un'opportunità per poter meditare, per poter riflettere. Magari anche perché per almeno 15 minuti so che non posso riprendere sonno. Forse i genitori lo vogliono far sfogare, mi pianto in continuazione. E proprio 5 o 6 notti fa, mentre mi sono svegliato, mi è venuto in mente qualcosa che fino a questa mattina non sapevo sarebbe stato il titolo. Queste sono i miei punti, come vedete non c'è un titolo. Ieri cercavo di mettere un titolo, ma questa mattina il titolo del messaggio è Lui è ancora lo stesso. He's still the same. E se è il mismo, gliel'hai remendo? Non lo so dire in filippino. Ma Lui è ancora lo stesso. A dispetto del fatto che questo mondo è alla ricerca di un continuo cambiamento Lui è ancora lo stesso. Rispetto del fatto che noi vogliamo essere così come questo mondo ci dice di essere Lui è ancora lo stesso. E qualcuno magari ci ha detto dicendo Voi siete all'antica Grazie a Dio perché siamo all'antica Perché Lui è ancora lo stesso. Alleluia, quale grande Dio che serviamo. Questa mattina siamo stati nella sua presenza Sapete, era ancora la stessa. Quello di 2000 anni fa è lo stesso Dio che noi oggi serviamo. Alleluia, alleluia. Durante il tempo di preghiera Durante il tempo della notte abbiamo sentito il suo spirito Che è ancora lo stesso. Lui che non cambia mai. Alleluia. 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 Lui è ancora lo stesso. Alleluia. 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 Questa mattina abbiamo parlato dell'Apocalisse Abbiamo parlato del fatto che Dio è la luce Abbiamo parlato del fatto che quando saremo nel regno dei cieli Non ci sarà bisogno del sole perché lui ha ancora lo stesso Sarà già il sole e questa mattina parleremo del regno dei cieli Alleluia. Alleluia. Ma sapete di Dio che io osservo è ancora lo stesso. Alleluia. Quindi parleremo del regno dei cieli Vorrei invitarvi a prendere la parola di Dio Nell'Evangelo di Matteo Leggeremo due parole Matteo al capitolo 13 Verso Come fuori? Fuori a secchi Versetto 44 Versetto 46 Alleluia. Alleluia. Abbiamo trovato la parola di Dio Possiamo dire amè? Amè. Amè. Prima di iniziare a leggere Vorrei dirvi qualcosa Sapete il tempo Del Uso questo termine Non sono il predicoso Oggi mi sono chiesto di farlo Ma voglio mettermi Quattro tradini sotto A tutti quanti voi Ma sapete Il tempo della predicazione Da nessuna parte Nella parola di Dio Lo troviamo in antitesi Con il tempo di lode Si può lodare ovviamente Ascoltiamo la predicazione Si può essere d'accordo Alla predicazione Si può pregare Durante la predicazione Niente ci vieta niente Amè. Quindi questa mattina Vorrei chiedervi di Accendere il nostro spirito Questa mattina Amè. Chiediamo cosa Per tutti quanti noi Alleluia Capitolo 13 Dal verso 44 Dal verso 46 Dice di nuovo Il regno dei cieli È simile A un tesoro Nascosto nel campo Che un uomo Dopo averlo trovato Nasconde E per la gioia Che ne ha Va Vende tutto quello che ha E va a comprare Quel campo Il regno dei cieli È simile A un mercante Che va in cerca Di belle perle È trovata una perla Di gran valore Se n'è andata Ha venduto tutto quello Che aveva E l'ha comprata Fin qui la parola Di Dio E mi richiede La vostra storia Questa mattina Di pregare Alleluia Diamo grazie Oh Padre Per la tua parola Voglio parlare In questa mattina Signore Ai nostri cuori E che la donzione Sia su di noi Affinché Oh Padre La tua parola Ci sia predicata E ricevuta Con autorità Signore Ti preghiamo Signore Dio Perché il tuo nome Che nei nostri cuori Possa ancora imprimere Le tue parole Affinché noi Oh Signore Dio Possiamo riceverne E benedizione E possiamo Signore Gesù Ricevere Aiuto Qualora fosse necessario Ti rendiamo grazie Oh Signore Voglio amministrarci La tua meravigliosa parola Perché è il pane Della vita Oh Signore E ti rendiamo grazie Nel nome Del Signore Gesù Benedetto Per tutte le eternità Amén Alleluia Su il Dio Benedica Potete accomodarmi Amén Alleluia Alleluia Grazie Dio Nel libro L'Evangelo di Matteo L'Evangelo che Più parabole rispetto Agli altri Vangeli Meglio vengono raccontate Più parabole E dice la sua parola Che Gesù era Solito Parlare Attraverso le parabole Le parabole Erano Fatti Non realmente Accaduti Potevano anche Essere fatti Accaduti Ma Di solito Gesù Utilizzava le parabole Per dare una spiegazione Più semplice Di quello che Sarebbe avvenuto Di quello che Stava avvenendo Utilizzava le parabole Anche per compungere I corpi E in questo Tratto In questo capitolo Ci sono parabole Che si susseguono E sembra quasi Che Matteo è lì A scrivere E Segna intanto Quello che Gesù sta dicendo Poi dopo un po' Dio Scusa Gesù Mi spieghi Che cosa hai detto Prima Non so se avete avuto Un modo di leggere Il libro di Matteo Dove c'è Delle parabole Finiscono le parabole Poi c'è scritto Spiegazione della parabola Magari di qualche parabola Prima Perché sapete A volte È difficile capire Ma Non perché Gesù sia difficile Da capire Ma perché La vostra attitudine Non è quella giusta Per capire Bene Bene Sapete la differenza Tra una chiesa In vita E una chiesa Non in vita È l'attitudine Della chiesa Non potremmo mai Dare la colpa a Dio Per quello che non avviene Per quello che non sentiamo Per quello che non abbiamo Ma è sempre La nostra attitudine Che fa la differenza Bene Perché Dispetto del fatto Che noi cambiamo Come gli avevo detto prima Lui è ancora lo stesso Lui è sempre stato Lo stesso E sarà sempre lo stesso E grazie a Dio Per questo Perché lui non cambia mai Bene Sapete Questa parabola Ci spiega Non Che cosa sarà Ma Ci spiega Come arrivare Quando leggiamo Il regno di Dio È simile a Sembra quasi Che stia facendo Una spiegazione Di quello che si troverà All'interno del regno di Dio E invece no Ci spiega Cosa bisogna fare Per raggiungere Il regno di Dio Ammè E non so quanti di voi A meno una volta Nella vostra vita Vi siete sentiti dire Da qualcuno Tu non sei più Quello di Dio A me questa cosa Mi fa venire in erbe Ma a quanto pare È vero Io non sono più Quello di Dio E magari lo viviamo Nella vita quotidiana Quanti di noi Magari Con il fidanzatino La fidanzatina La moglie Il marito Che sia Magari I primi tempi C'era il dolcetto La letterina Oh come sei bella oggi Come sei simpatico oggi Che bei capelli Che hai Ma più va avanti Il tempo Almeno queste cose Si dicono Ma tanto lo sai Ma dopo tutto Non ha senso Chi ti ripeta queste cose E sapete Questo Volenti o nolenti Io faccio mia punta È simbolo del fatto Che noi stiamo cambiando Il nostro atteggiamento La nostra attitudine Sta cambiando Ma veniamo Alla nostra scrittura Che dice Il regno dei cieli È simile a un tesoro Nascosto nel campo Ecco appunto A proposito Di qualcosa di nuovo Così come abbiamo Le attenzioni Per le persone Lo abbiamo anche Per le cose Abbiamo comprato Le scarpe nuove Camminiamo Così Perché siamo sicuri Che nessuno Ci graffi le scarpe Compriamo l'auto nuova E dopo due giorni La vado a lavare Perché penso Che sia troppo sport Mentre l'auto di prima C'era il basilico Il prezzemolo C'era di tutto Dentro la macchina Ma L'attitudine Delle prime cose L'attitudine Di quelle cose Che per quel piccolo Momento Sono diventate Nuove E sapete Il regno dei cieli È simile a Qualcosa Che noi Non abbiamo ancora Ma per la quale Vale la pena Vendere tutto Per poter avere Alleluia Siamo Umani E Dio conosce Gesù ci conosce Gesù conosce Il nostro cuore Sa che noi Saremo Dei accumulatori seriali Di tutto quello Che ci piace Faremo Di tutto Per arrivare A comprare L'auto Dei nostri sogni L'orlogio Dei nostri sogni Le scarpe La borsa Per voi O Avere ciò Che noi Tanto desideriamo Perché vogliamo Essere Appagati Di quello Che ci manca E una delle cose Di questa generazione Nel fatto che Noi siamo Disposti A tutto Pur di arrivare A dove vogliamo Arrivare Ora però C'è qualcosa Su cui io Questa mattina Vorrei far riflettere In cui non voglio Spegnere il vostro Spirito Ma si voglia Accendervelo E la mia domanda Un po' provocatoria In cui non voglio Che nessuno risponda Non vorrei Che nessuno risponda Ma Dove è finita L'attitudine Del giorno In cui ho ricevuto Lo Spirito Santo Perché lo Spirito Santo Che tu hai ricevuto Sarà sempre lo stesso A rispetto del fatto Che noi cambiamo È sempre lo stesso È sempre quello È sempre lì Ma noi Molto spesso Una volta Abbiamo ricevuto La perla Di grande valore Facciamo il contrario Di quello Che Gesù ci insegna Mettiamo da parte La perla Di grande valore E andiamo alla ricerca Di quelle Finte perle Che questo mondo Vuole venderci E Nulla di male Ad essere ambiziosi Nulla di male Ad avere dei beni Ma Non facciamo mai Sì che quello Prenda il posto Di Dio Nella nostra vita Perché sapete Vedo come Se noi dall'alto O meglio Come Se Dio dall'alto Ci guardasse E volesse dirci Ed è quello Che questa mattina Vuole dirci Tu hai già La perla Di grande valore Io Ti ho già Dato il regno Di Dio Sulle tue mani Tu già Conosci Come poter Arrivare Nella mia Presenza Tu sai già Qual è il cammino Da dover seguire Ti ho già dato Le istruzioni Per poter andare avanti Ma perché Continui a cercare Altro Quando io sono L'unico Per cui E sapete È la domanda Ed è la risposta Di cui Dio mi perdoni Se non è così Ma io ti sono Fermamente convinto Del fatto che Chi viene in chiesa E poi se ne va È perché Non ha conosciuto Dio Conoscere Dio Non vuol dire Ricevere lo Spirito Santo Conoscere Dio Non vuol dire Essere battezzato Dalla parola di Dio Conoscere Dio Vuol dire Vivere qualcosa Di personale Con Dio Vivere un'esperienza Unica tra te E Dio Che ti potrà dire Ho la perla Di grande valore Non la scambierò Per niente Perché Quello che ha fatto Dio per me Questo mondo Per me Non lo può fare Alleluia Alleluia Perché lui è ancora Lo stesso Per quanto mi riguarda Dal 2009 in poi Vorrei Che L'anno Avesse undici mesi Sarei felice Se il mese di ottobre Lo tagliassimo Da tutti i calendari Mi dispiace perché è nato mio fratello a ottobre Ma cosomai gli farei cambiare il giorno della data di nascimento Per me ottobre è un mese orribile Scusami sono la salone Fai il compreando È un mese che io vorrei mettere da parte Perché Diverse delle cattive notizie ricevute dalla mia vita Tutte a ottobre Sembra fatta apposta Però sapete Così come commentavo con la mia famiglia Proprio In uno degli ultimi giorni di ottobre Nei momenti in cui Io stavo male Lui era ancora lo stesso Nei momenti in cui io non capivo Lui mi spiegava Sempre la stessa cosa Non abbandonarmi perché io sono con te Non ti allontanare perché io sono con te Non smettere di credere perché io sono ancora con te Noi non serviamo un Dio che ci dice Quello O meglio Che fa ciò che noi gli chiediamo di fare Ma lui fa sempre ciò che è meglio per noi A rispetto da quello che noi possiamo pensare A rispetto da quello che noi possiamo capire Lui continua a fare il nostro bene Perché Perché lui l'ha detto Migliaia di anni fa Ha detto Il mio popolo Così come abbiamo cantato Colui che è chiamato del mio nome Se si umilia Se si abbassa Se prega Se prega E voglio ripetere Se prega Io lo ascolterò Se prega io lo ascolterò Non se canta Quante volte il cantico dice Signore rispondi Alle mie preghiere Ma Gesù non ha richiesto il canto Il canto è qualcosa che va benissimo Bisogna lo dare a Dio Ma la chiesa deve essere una chiesa che prega Affinché Dio possa rispondere E quindi se quel popolo prega Io lo ascolto E poi dice qualcosa di Qualcosa in più Del Io risponderò alle sue preghiere Dice Io lo riporterò Nella strada che deve seguire Sapete Non so quanti di voi Nell'auto Tu hai un'auto nuova Quindi probabilmente tu ce l'hai Nell'auto Ultimamente hanno messo Quello che si chiama Safety line La linea di sicurezza Praticamente se Tu hai un colpo di sonno L'auto frena da sola Se stai andando verso Una La careggiata opposta L'auto ti rimette in careggiata Perché ha visto che tu stai dall'altra parte E sapete Se volessimo fare un parallelismo Con quello che è la parola di Dio La parola di Dio è il nostro safety line Alleluia Quante volte A dispetto del fatto che Dio è sempre lo stesso Ne abbiamo voluto provare L'altra carità Abbiamo iniziato a girare lo sterzo Non tutto ognuna volta Perché comunque se no il pastore se ne accorge Però piano piano Voglio avvicinarmi Voglio vedere cosa c'è al di là della linea Vogliamo sapere cosa c'è al di là della linea Proprio questa mattina Riascoltavo Qualcosa che avevo sentito diversi anni fa Che Non sono un po' nazionalista Ma questo non c'entra nulla Ma Dell'importanza O meglio Tra virgolette Della fortuna Di nascere in Italia Ok E faceva un escursus Partendo da Da quello che è la terra Da quanti anni c'è l'uomo sulla terra E poi faceva Questo calco Diceva Se non sbaglio Questo video è del 2018 Nel 2018 C'erano 7 miliardi e 200 milioni di persone Sulla terra Nel 1969 C'erano 2 miliardi di persone sulla terra Quindi In brevissimo tempo Ci siamo quasi triplicati Anzi più che triplicati Però dice qualcosa Oggi Ci sono 2 miliardi di persone In guerra La guerra copre 2 miliardi di persone Cioè se Tutte le persone del 1969 Fossi morti Tutti saremmo stati in guerra 2 miliardi di persone in guerra Questo è esattamente Quello che c'è fuori Dalla volontà di Dio C'è incomprensione C'è instabilità E questo vuol dire Che a noi Questo non ci tocca Noi viviamo in questo mondo Siamo Abitanti Di questo mondo Ma questo non vuol dire Che noi dobbiamo conformarci A questo mondo Perché così come ho detto Il mondo cambia Stia cambiando Quello che prima era strano Diverso Oggi è normale Quello che è sbagliato Oggi è diventato giusto Ma questo non significa Che noi dobbiamo pensarlo Esattamente come il mondo pensa Ciò che per la parola di Dio È sbagliato Continua a rimanere sbagliato Ciò che non è giusto Secondo la volontà di Dio Continua a non essere giusto Anche oggi Ma siamo moderni Beh la chiesa di Dio Non è moderna Abbiamo gli strumenti moderni Bene Ma la parola di Dio Non cambia mai E quindi Nel momento in cui Questo mondo Cerca di portarci Verso altre parti Io voglio continuare A ricordare Quello che Gesù stesso Ha detto Attraverso la sua parabola Ha detto Io Posso dirvi Che il regno dei cieli È Simile a un campo Ora vedete Io sono tutto Tranne che uomo di campagna Penso che Se qualcuno Volesse torturarmi Mi dice Mi dica Stai in campagna Un giorno Penso che io Morirei Ma sapete C'è chi piace La campagna Io ho persone Che hanno venduto Un paziente Che mi diceva Proprio due settimane fa Che ha venduto Una casa Al centro di Roma Per trasferirsi Fuori Roma In campagna Io Non lo avrei mai fatto Ma Ogni campo Non costa Tutto quanto vale Comprare la campagna Fuori Roma Ha un costo Molto basso Beh comprare la campagna In Toscana Costa quanto una casa Comprare un pezzo di terreno Nel Chianti Può costare anche Svariati milioni di euro Perché? Perché quello che cambia È la terra Cambia la fertilità Cambia il fatto Che su determinati campi Io posso costruire O posso piantare Cambia il fatto Che con determinato Tipo di terra Posso avere Delle buone fondamenta Per una casa O delle cattive Fondamenta Per una casa E qui Gesù Ci parla del fatto Che Io mi insegno Il simile A un tesoro Nascosto nel campo Ora Questo campo Contiene un tesoro E noi sappiamo Che il tesoro È Gesù Cristo stesso Ma Sapete C'è una delle cose Che mi viene in mente Quando leggo questo Dice Gesù È colui che è visibile A colui che lo cerca Ho visto il campo Mi hanno detto Che lì c'è Gesù Vendo tutto E compro quel campo Beh è necessario Trovare Gesù Perché sai Sapete Esistono molti falsi campi Esistono molti campi In cui c'è scritto Questa è la via Seguiteci Questa è la verità Sapete Quel tesoro Bisogna trovarlo Ma per trovarlo Bisogna cercare E cercare Gesù È L'argo compito Della nostra vita È difficile Il compito Della nostra vita Perché Cercare Gesù E trovarlo Vuol dire Avere ogni giorno Un rapporto personale Con quel tesoro Nascosto In quel campo Vedete Durante La parola di Dio Possiamo leggere Di tante storie In cui magari Questi personaggi Non comprendono Perché di quello Ti avviene E per non essere Agitato Oggigiorno Basta che dici qualcosa A favore degli uomini Sia sessista O sia femminista O femminicidio Tutte quelle cose E quindi ha preso Un uomo E una donna Così nessuno Si si adatta E quindi Preparare Dalla storia Di Esther Esther Viveva con Suo zio Signor Mardokeo E viveva La sua gioventù Apparentemente Possiamo immaginare Che Non c'era niente di strano Nella sua vita Sicuramente Una ragazza Rispettabile Perché c'è da dire una cosa Se Dio si usa Di qualcuno Di noi È perché Siamo Perché si deve essere Delle persone Di buona testimonianza Non possiamo essere Gli angioventi Della chiesa E i demoni Dabili del mondo E quindi Un giorno Sappiamo la storia La regina Vasti Si rifiuta Di presentarsi Davanti al re E per quanto mi riguarda Devo dire giustamente Perché il re La voleva far vedere Per dimostrare Quello che lui aveva Era un oggetto Dice la sua parola Per mostrare La sua bellezza A colui che era In quella festa E quindi Sappiamo come va avanti La storia E Esther Si trova ad essere La regina Più importante del mondo In quel momento Il mondo conosciuto Era il Popolo più grande In assoluto C'erano Appunto Il re Assuero Era tutto il popolo E sono convinto Del fatto che Esther Almeno una volta Si sia chiesto Perché le cose Sono cambiate Perché io Non mi trovo più Nella casa Di mio zio Mardo Kero Oggi Sono qui Perché Perché sono cambiate Le circostanze Ed è molto spesso Quello che noi Ci chiediamo Perché noi Non siamo più Nel posto In cui eravamo Perché noi Ci troviamo Nella situazione In cui ci troviamo Oggi Ma sapete C'è una cosa Che Esther Pensando a queste cose Stava comunque Dicendo A dispetto Del fatto Che io Cambio A dispetto Del fatto Che le circostanze Cambiano Il mio dio Non è ancora Cambiato A dispetto Del fatto Di quello Che tu Stai passando Oggi A dispetto Di quello Che sta succedendo Nella tua vita Che sia positivo O negativo Il nostro dio Non è cambiato E non cambierà Quello che Dio ha per te Lo sai Soltanto tu E questa mattina Era Onestamente Il messaggio Su cui io Volevo andare A indirizzare Ma Dio sa Se tu Non sai ancora Qual è Lo scopo Della tua vita Per Il Signore È fondamentale Che tu lo sai Nessuno di noi È qui per caso Nessuno di noi È qui per essere Uno spettatore Della Chiesa Non esistono Chi guida La Chiesa E chi segue La Chiesa È la Chiesa Unita Insieme Tutti quanti Noi abbiamo Un proposito Ben preciso Per quella Che è la volontà Di Dio Perché Perché A dispetto Dal fatto Che Questo mondo Vuole continuarci A mandarci avanti Quello che c'è Di nuovo Basta cercare Una qualsiasi cosa Su internet Subito E veniamo bombardati Da quel tipo Di pubblicità Perché Perché Il mondo Sta andando avanti E quindi Dobbiamo andare avanti Insieme a loro Ora Niente di male Con tutto quello Che possiamo Comprare Facciamo attenzione A non cambiare Insieme a questo mondo Il problema Più grande E l'allarme Più grande La senti no? L'allarme Più grande È il fatto che La Chiesa Possa andare incontro A un cambiamento La Chiesa Non deve cambiare La Chiesa Non dobbiamo Cambiare Perché Sapete Ci vuole Molto poco A far saltare Le persone Sui banchi Basta Alzare la voce E le persone Si prendono D'animo E pensano In quel momento Quell'emozione Li fa saltare Ma la Chiesa Non è Per forza Una Chiesa In cui i banchi Devono essere Per animi La Chiesa Non è Per forza Quel posto In cui Ogni qualcosa Che viene detto Da chi predica Deve assolutamente Essere Come dire Deve assolutamente Tirarmi su Di morale Perché il predicatore Non deve essere Uno sciome Perché noi Non dobbiamo Essere la Chiesa Che deve assolutamente Fare rumore Non deve essere La Chiesa In cui Basta che lo ha detto Lui Allora sicuramente È vero La Chiesa Deve essere Quella Che va avanti Continuando a pensare Che Lui Non è ancora Cambiato E noi Dobbiamo essere Così Noi Non dobbiamo Cambiare Diventiamo più grandi Grazie Dio Diventiamo con i capelli Bianchi Grazie Dio Ma non possiamo Cambiare il nostro Modo di essere Con Dio Perché Lui Non è ancora Cambiato Ricordiamoci Chiesa Nel momento in cui Dio ci ha parlato Dio è Ha preso Il nostro cuore Siamo riusciti A trovare Il tesoro In quel campo Che noi abbiamo Cercato Non mettiamo Da parte Il tesoro Che noi abbiamo Trovato Per quelle False perle Per quei Finti campi Per quella Terra Arida Per quelle Sfere Che ci dicono Che siano Di grande valore Ma che non valgono Nulla A dispetto Di quello Che Dio Può fare Con noi E questo Mondo Pensa di sapere Ciò che noi Vogliamo So se ti è mai Capitato Di leggere Un messaggio Una mail L'auto Dei tuoi sogni E poi magari Neanche ci piace Quell'auto Però secondo il mondo Quella è l'auto Dei nostri sogni Oppure Quello che Stavi cercando È finalmente Arrivato Pubblicità Mi ricordo Se non sbaglio Forse di un telefonino Che diceva Il telefono Che hai a lungo Desiderato Oppure Sì ecco Fecero La pubblicità Del Motorola Non so quanti di voi Si ricordano Lo Startup E fecero Fanno fatto Un nuovo telefono Tutto Taccio Che si apre Il telefono Che non vedevi Lora Che rimasse È stato Un fallimento Perché non l'ha comprato Quasi nessuno Ma il mondo Pensa di sapere Ciò che noi abbiamo Di bisogno E quindi ci mette davanti Cose che Ci scambia Guarda che bella Perua Non quella che tu hai La chiesa è vecchia La chiesa Quella che tu stai servendo Pensa cose che oggi Sono sbagliate Mi dico di più Io sono una persona Che ascolta Moltissimo Dei podcast Facevo ascoltare A mio padre Il fatto che ci sono Uomini di chiesa Che dicono Che la genesi Non sia mai esistita Che il fatto che la genesi Sia un libro inventato Il fatto che la genesi Sia un libro In cui più o meno Si voleva spiegare Dare una spiegazione Plausibile Di quello che Dio ha fatto Uomini di chiesa Con il collettino Bianco qui Perché? Perché il mondo Deve cambiare Perché quello che Prima Era la parola di Dio Beh adesso Non conta più Beh Non ha più importanza Il fatto che tu Voglia vivere per Dio La cosa importante È che tu sia approvato A questo mondo E invece Una delle cose Che Ricordo che Forse fu il pastore Arcidiacono Disse Durante una Durante una conferenza Disse A dispetto di quello Che il mondo Vuole dirti Il mondo Ci vuole tutti uguali Mangiare le stesse cose Vestire con gli stessi vestiti E avere uno standard Di bellezza Tutti uguali Tutti Secchi secchi Capelli Ben cotonati Senza Neanche una ruga E questo È il mondo Che ci dice Che siamo tutti uguali Ma Ci si dice Tu sei Perfetta Così come tu sei L'unica persona Che ci accetta Veramente Esattamente Totalmente Totalmente Non è neanche Vostro marito Vostra moglie Ma è solo Dio L'unica persona In tutto il mondo Che ci vuole esattamente Così come siamo È solo Dio Perché Perché a lui piace Non cambiare Tu sei perfetta così Non devi cambiare Io ti ho creato Pura Devi rimanere Pura Io ti ho creato In questo modo Devi rimanere In questo modo E così come lui Ha creato La chiesa La chiesa Deve rimanere Nello stesso modo Alleluia Perché Perché noi abbiamo Anche Nella Parola di Dio Un Un esempio Della differenza Che c'è tra il mondo E Gesù Cristo stesso Ci troviamo Ci troviamo in un pozzo In un pozzo In cui le donne Usualmente Andavano a prendere l'acqua Ma Gesù Quel giorno Stranamente Se vogliamo dire Stranamente Era da solo Aveva detto Ai suoi discepoli Di andare Perché lui voleva Stare da solo E sapete Quando Gesù vuole Riprenderci Vuole Riportarci Sulla giusta strada Non lo fa mai davanti a chiare Viene vicino a noi Si avvicina Di modo che nessuno Possa ascoltare Ed è certo Che siamo soltanto Noi e lui Mette la mascherina Dicendo Immagino Gesù Ovviamente Dio mi perdoni Ma non mi sto affatto Avvicinando a Gesù Che si avvicina Alla donna Che ha tanti problemi Una donna Che è da sola Si avvicina E non gli dice Che cos'ha Una donna Mai vista prima Ma Non gli dice Che cos'ha Si avvicina E gli dice Sembra quasi un po' Brutalmente Non so se avete letto Sicuramente questa storia Dice Donna Dammi da bere I giorni d'oggi Sarebbe stato abitato Come maschilista Devi dire Per favore Mi raccomando Perché Signora Se non le dispiace Cortesemente Potrebbe darmi da bere Ma Gesù Invece dice Donna Dammi da bere E questa donna Dice Chi sei tu Giudeo Che chiedi a me Samaritana da bere Ora vedete Gesù ha sempre Un modo unico Di avvicinarsi a noi Gesù sapeva Che quella domanda Gli avrebbe Dato quella risposta E sapete Non è un caso Che Gesù Si sia Avvicinato A un pozzo Perché Il pozzo C'era dell'acqua E lui in quel momento Voleva Predicare A quella donna Proprio esattamente Di quello Che lei aveva davanti Perché sapete Gesù ci spiega Le cose In maniera semplice Non c'è Che i parodoni Che magari Alcuni Predicatori Grandi predicatori Quanto tanto Sta parola Mi viene l'ordicaria Grandi predicatori Che utilizzano Grandi parole E quindi Gesù Dopo averle Chiesto dell'acqua E dopo Che la donna Le risponde Gli dice Chi sono io Io sono Il salvatore E non avrebbe Non avrebbe detto L'ora di sbagliato Perché lo era davvero Ma Gesù Aveva Voleva Teneramente Farne capire Che da quel momento Lei aveva finalmente Trovato la terra Dai grandi valori L'aveva cercata In tanti uomini Aveva cercato La felicità In più uomini Aveva Cambiato Il suo stile Di vita E cercava Era la ricerca Di quella gioia Ma Gesù Si avvicina E dice Donna Sono Sono l'acqua Che Ti può dissetare Per tutta la vita Sono La perla Che non devi Scambiare più Per nient'altro Sono il campo O meglio Sono il tesoro Nel campo Che stavi cercando E dice Dell'acqua Che tu mi stai dando Può essere utile Per poco tempo E questo mondo Va alla continua ricerca Dell'acqua Che ci disseta Per poco tempo Il mondo vuole Continuare Ad avvicinarsi A te Dandoti qualcosa Che ti possa dare Una gioia temporanea Qualcosa che Nel breve Già diventa passato Un telefono Dopo due giorni Nesce un altro Un computer Dopo due giorni Nesce un altro La macchina Dopo due giorni Esce il restyling Non fai tempo A comprare una cosa Che già è diventata vecchia E quindi Gesù dice A dispetto Del fatto che Questo mondo cambia Io rimango sempre Lo stesso E quindi dice Donna Di chi beve Di quest'acqua Continuerà A avere ancora Sede In breve Di chi Attinge dal mondo Avrà sempre Bisogno di qualcosa Che oggi Sarà la macchina Che domani Saranno i soldi Che poi Sarà una gioia Momentanea Quindi vado a ballare Poi vado a bere E poi vado a drogarmi E poi vado Alla ricerca Di gioie momentane Questo è Donna Quello che tu Mi stai per offrire Dell'acqua Sì ma Questa non dura Per sempre Ma chi beve Della mia acqua E non dice Chi beve Della mia acqua Pertanto Questo ci manifesta Che Gesù È Chi beve Della mia acqua Non avrà più Sede Sarà Disedato Per tutta la vita E sapete Ha utilizzato L'acqua Perché Sa che noi umani Abbiamo bisogno Di acqua E quindi ci ha detto Quello che tu hai di bisogno Mettilo nelle mie mani Quello che ti manca Mettilo nelle mie mani Quello che tu vuoi fare Mettilo nelle mie mani Chi tu vuoi essere Mettilo nelle mie mani Perché io Non ti farò mai più Avere sedia Alleluia Ma molte volte E questo voglio Vorrei Che arrivasse nel cuore A tutti noi Che abbiamo Conosciuto Gesù E sappiamo Che Gesù È la perla Di grande valore Perché dei Cieli È la perla Di grande valore Vorrei raccontarvi L'ultima storia Dalla parola di Dio Ed è la storia Di un uomo Che spesso Viene abitato Come traditore Ma io molto spesso Chiederai E tu Cosa avresti fatto Al suo posto E vorrei parlarvi Di Pietro Pietro Che insieme a Giovanni È stato L'uomo Che dal punto di vista Di tempo È stato Più di tutti Con Gesù Sappiamo Il gallo Cantò E Tradì Gesù E dopo Dopo I giorni In cui ovviamente Gesù I giorni Che furono Senza Gesù Lui A un certo punto Disse Io me ritorno A pescare In altre parole Gesù Era stata Una perla Bella Grande Importante E questo È esattamente Le persone Che vengono In chiesa E credono Di conoscere Gesù In quel momento Pietro era convinto Che aveva conosciuto Gesù Gesù L'aveva convinto E L'aveva forse Anche deluso Quindi dopo Aveva preso Quella perla Si era reso conto Che dopo tutto Era da solo Non Non c'era più Quindi aveva preso Quella perla E l'aveva rimessa Nel posto In cui l'aveva trovata Ed era Ritornato A cercare Le altre perle Vediamo cos'altro Mi può dare il mondo Io me ritorno Alla vita di prima Io voglio tornare Ad essere Quello che ero Vero Ma C'è qualcosa Di speciale In quello Che Gesù Dice A quegli uomini Sulla barca Non gli dice Voi senza di me Non potete fare nulla Ma glielo fa capire Ehi voi Avete preso Mesce senza di me Ehi voi Vi sentite approvati Adesso senza di me Pensavate Che dopo avervi conosciuto E tornare indietro Avreste vissuto Una vita migliore Pensavate davvero Che la perla Di grande valore Che voi avete cambiato Ne è valsa la pena Alleluia Alleluia Quante volte Chiesa Noi abbiamo preso Quella perla Di grande valore L'abbiamo messa Nel cassetto Siamo andate alla ricerca Di quello che noi Volevamo fare Chiesa Gesù Questa mattina Ci conosce E magari Ci sta chiamando Per nome E ti sta chiedendo Ehi tu Che mi hai messo da parte Come sta andando La pesca Ehi tu che Pensi che La chiesa Dopotutto Sia Sì Utile Ma non fondamentale Come sta andando La pesca Ehi tu che pensi Che la preghiera Sia sopravvalutata E che Piegare dieci minuti Prima del servizio E quando lo fai Sia abbastanza Come sta andando La tua vita Come ti senti Qual è la tua attitudine Qual è la tua Situazione Personale Staventina Gesù Vuole fare Esattamente Quello che ha fatto Con Pietro Lo ha trasformato In una persona Che Da che aveva messo Da parte La perla di grande valore E' colui che si Prende cura Di dire Come si entra Nel regno dei cieli Fratelli Che cosa dobbiamo fare Ed è proprio Pietro Colui che ha detto Io me ne vado Vado Torno a pescare Gesù non ha detto Dato che tu Per la prima volta Ti sei O per la millesima volta O per la milionesima volta Ti sei girato Io mi dimentico di te E per me tu adesso Non vale nulla Gesù è sempre lo stesso Se il mio popolo Che rinuncia alle vie malvagie Torna indietro Nei suoi pensieri Prega Si umilia Mi ascolta Io lo benedirò Lo riporterò Nella strada giusta E mi userò proprio di lui Per portarli Nel regno dei cieli E a proprio Pietro Che dice Fratelli Battezzatevi Nel nome di Gesù Cristo E voi riceverete Lo Spirito Santo Alleluia Perché? Perché il nostro Signore A dispetto del fatto Che noi siamo tornati indietro Lui è rimasto lo stesso A dispetto del fatto Che noi abbiamo voltato Le spalle Lui non è ancora cambiato A dispetto del fatto Che noi siamo lontani Perché magari in questo momento Siamo dei peccatori Lui ci sta dicendo Io non mi sono dimenticato di te C'è ancora tempo Battezzate Ricevete il dono Dello Spirito Santo Chi lo ha già ricevuto Rinnovate Lo Spirito Santo Come dice l'Apostolo Paolo Non fate spegnere Il fuoco Dello Spirito Santo Alleluia Alleluia Perché il nostro Signore Non cambia mai Esther si trovava In quel momento Da una parte Dove non voleva essere Ma proprio nel momento In cui c'era bisogno Di qualcuno Beh Dio aveva qualcuno Che lavorava Dalla sua parte Questa mattina Dio vuole che tu Sì dalla sua parte Ok Se sei distante Questa mattina Dalla volontà di Dio Dio questa mattina È lì sulla rima Che non sta aspettando Il tuo pesce Per cucinarlo Ma lo ha già preparato Per te Quale meraviglioso Dio noi serviamo Alleluia Mentre noi pensiamo Che Dio ha bisogno Di noi Dio ci dimostra Che siamo noi Ad aver bisogno Di lui Mentre noi pensavamo Di tornare Alla nostra vita E ritornare Da vincitori Con le reti Pini di pesce Siamo tornati A riva Senza neanche Un pesciolino Ma c'è lì Gesù che ci aspetta E ci dice Ehi Io non sono ancora Cambiato Mi sono preso Cura di te Mentre tu eri lontano Guarda Ti aspettavo L'avevo già preparato Per te Mentre tu eri lontano Dalla mia via Io già aspettavo Te per darti Le mie benedizioni Alleluia Il nostro Signore Non cambia Chiesa Il nostro Signore È colui che ci aspetta E non vuole cambiare Alleluia Delle lingue Delle lingue di fuoco E loro che erano riuniti Ricevano lo Spirito Santo Tutti come il Signore Da Dio Ad esprimersi Che è ancora L'unico modo Per ricevere Lo Spirito Santo E poi Gesù O meglio Poi Pietro Scusate Esce E quegli uomini Che sono fuori Li sentono parlare Nella propria lingua E questo intanto Ci fa capire Che davanti a Dio Siamo tutti quanti uguali Non importa Da dove vieni Che lingua parli Se sei Bello Brutto Alto Basso Un po' più cicciotto Un po' meno cicciotto A ognuno È arrivata La parola della salvezza Tant'è che Quel giorno Gli venne posta La domanda Fratelli Che cosa dobbiamo fare Può sembrare Una domanda Molto lontana Ma è ancora presente Questo mondo In un modo o nell'altro Quando ti si avvicina Ti sta dicendo Che cosa devo fare Siamo noi pronti A predicare La parola di Dio È il nostro spirito Pronto Per parlare A questo mondo Non è un caso Che Pietro Aveva Da poco ricevuto Allo spirito santo Aveva potuto fare prima No Era necessario Allo spirito santo Per poter predicare È necessario Allo spirito santo Tutto Per poter essere salvati E c'è Battezzatevi E voi riceverete Il dono Dello spirito santo E io questa mattina Vorrei dire Ad ognuno di noi Che il nostro Signor Non è ancora Cambiato E il modo Per poter essere Salvato È ancora Lo stesso E io vorrei E io vorrei che questa mattina Ognuno Nel proprio posto Se vuole Giustamente Possa riflettere A dove sono I suoi piedi Sono nella volontà Di via Sono nella carreggiata Giusta O mi sono Allontanato Sono sulla barca O sono già Arrivato sulla riva Per cosa Sto scambiando La perla Di grande valore Prego ogni giorno Sono fedele Alla parola di Dio Ho ricevuto Lo spirito santo Beh se questa mattina Hai ricevuto Lo spirito santo Io Credo sia buono Rinnovare Lo spirito santo Che Dio ci ha dato Se è tanto Che non parli In lingue Chiedi a Dio Che ti rinnovi Del suo santo spirito Se non lo hai mai ricevuto Anche questa mattina Perché non è Questa mattina Dio è pronto A dare lo spirito santo Anche questa mattina Dio è pronto Ogni mattina Ogni giorno Ogni ora È buona Per ricevere Lo spirito santo Ma chiesa Così come Il nostro Dio Non cambia Noi che abbiamo ricevuto La perla Da grande valore Non torniamo indietro Nel nostro passo Lui non è ancora Ha cambiato Per fare una domanda Tutti quanti conosciamo La corona lifting Avete mai visto Delle persone Che hanno un viso Perfetto E nella cola Ci sono Decine Decine di rughe Hanno un capello Colorato Perfetto Ma le loro mani Hanno delle macchie Della vecchiaia Cerco di nascondere La verità Poco fa La mia mente È andata Al capitolo 13 Degli ebrei I versi Che procedono Dove L'autore dice Che Gesù Qui sono sesso Ieri Oggi In eterno E l'autore Dice Non ponete Mente Ad acquisire Denaro Ovviamente Non fa Riferimento Che non dobbiamo Lavorare Potete guadagnare Onestamente 20.000 euro Alla settimana Che Dio Vi vede Dica Non avere I tuoi pensieri Solo Ammette da parte Denaro È perché Dice poi L'autore Il tipo Degli ebrei Dice Perché Dio Ti ha detto Io non Vi abbandonerò Stavverso 10 Io non Vi lascerò Quindi Che tu Studi Perché Vuoi guadagnare Così tanto Pensando Di poterti Comprare Un po' Un giorno Chissà che cosa Sapi che Dio Non hai cambiato E quindi Il verso Successivo Dice Gesù Questo Lo stesso Ieri C'è una cosa Che è successo A me Negli ultimi Negli ultimi anni In modo particolare Negli ultimi mesi Della mia vita Per chi non lo sapessi Mi sono nato a Catania Nel magico 25 aprile 64 Avevo circa 17 anni 16 anni 17 anni Quando ero in preghiera E Dio mi diede Una visione Ovviamente Io vivevo a Catania In una città Anche a me Non piace la campagna Quando i miei genitori Decisero di comprare La campagna Io entrai in crisi E in quella visione Vi assicuro Non funzionò Mi ero sveglio Stavo pregando Mi alzai Che fu così Aneale Dove Dio mi disse Un giorno Tu ritornerai Nella tua città Con uno straniero Allora andavo A scuola Andavo Nel turno Pomeridiano Iniziavo Alle 2.10 Uscivano Alle 8.10 Da sera Mi alzai Preparai il pranzo E andai Andai a scuola E tutto come se si fosse Dimenticato Anni dopo L'ho già sposato Un padre di due figli Io in quella notte Meravigliosa Mi Mi fece rivivere Quella visione Che avevo avuto Circa 13 anni prima Che era il tempo Di lasciare la città E che un giorno Avrei lasciato Sarei ritornato Nella mia città Comune strane Ma fino a quel momento Non avevo capito Questo C'è che cosa vuol dire Arriva a dunque Nel frattempo Catania Non è più Quella di prima Cambiata I sensi di marcia Sono cambiati Prima c'erano I binari Del treno Adesso C'è la metropolitana E l'ultima volta Che sono sceso Ho dovuto dire A mio cugnato E al mio fratello Se io non mi seguo Io mi perderò M'hanno guardato Come per dire Amante sei Non mi sono l'incredimento E perché la città È cambiata E perché noi cambiamo Un po' parlo di gristi Molte persone Vogliono nascondere Le proprie rughe Pensando che sono cambiate O dando una Immagine sbagliata Della loro età Capite quello che voglio dire Ora Se Gesù Fosse cambiato Nel corso dei secoli Io penso che la chiesa Sarebbe un fanno A me Hanno ragione Quella del passato Abbiamo ragione noi E quelle del futuro Avranno ragione Avranno torto Quello che voglio Condividere con voi Questa mattina È che dobbiamo Continuare a servire Dio che non cambia E a motivo di questo Stamattina Ancora volta Ci ha ricordato Che è lui Che si prende Quello che è Quindi cercare Dio Vuol dire Fare la scelta Il migliore Della nostra vita Ed è in questa nostra O della nostra Quotidiana ricerca Dove Dio ci ricorda Che lui è la perla Di grande valore E il prezzo più alto Che lui ha pagato L'ha pagato Con la sua vita E con il suo sangue Per dare a noi La perla Di grande valore Alleluia Alleluia E sapete Le cose cambiano Mia madre Poco più di un mese fa Non è più residente A Catania Ha venduto pure case E parlando col pastore Lui mi ha visto Con le lacrime Forse è stata L'unica persona Che mi ha visto Un giorno Con le lacrime E' vero La mia città A volte dice Io amo la mia città Vorrei ritornare Della mia nazione La tua città è cambiata I nostri parenti Sono cambiati Poco sette giorni fa Mia moglie Ha perso La persona Che l'ha portata In chiesa E' morto Con un infarto Proprio la persona Che l'ha portata In chiesa Le cose cambiano Ma c'è solo un cambio Non so Quando ritornerò A Catania Ma voglio Come dire Signore domani Noi ci riporteremo Di nuovo Noi parleremo Di nuovo Perché tu signore Non cambi mai Se è lo stesso Ieri Oggi Alleluia Ti assicuro Il fatto che mia madre Abbia venuto a casa Lo so che io Ho sofferto tantissimo Ma sarebbe peggio Se io perdessi Ci sono Della mia vita Sarebbe la più grande Traggedia Della mia vita Stamattina Vogliamo Presentarsi al Signore Sapendo Che Lui E' ancora lo stesso E che abbiamo La libertà Di poter portare Il nostro peso Al Signore Lui non ci dirà Io sono cambiato Vedi C'è un lifting C'è solo stesso Ieri Oggi E' in eterno Vogliamo presentarci Al Signore Vogliamo adorare Al Suo nome Vogliamo ricercare La Sua faccia Questa mattina Forse qualcuno Ha perso l'orientamento Ma stamattina Possiamo Invocare Il nome di Gesù E Lui Che è la via Ci indicherà La giusta direzione La Signore Vogliamo presentarci Al Signore Alleluia 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 Grazie a tutti. 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 Se solo tu sapessi che è colui che ti viene da me, se solo tu mi conoscessi, capiresti che io non cambio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia. Non ho più capelli castano chiari. Non ho più le lenticchie. Ne ho mangiate così tanti che mi sono scomparsi all'indicino. Ero indigino, ovviamente. Ho 4 capelli, ho 4 capelli bianchi. Alleluia. Alleluia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, Signore, noi abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di te. grazie a tutti. Grazie a tutti. di volerci, di volerci, di volerci, di volerci accompagnare, di volerci accompagnare le nostre case, di volerci accompagnare le nostre case, con la tua pace, con la tua pace, con la tua benedizione, con la tua benedizione sul più di noi. E noi vogliamo concludere questo servizio con una volta di cento di grazie, nel nome di Gesù. benedetto per tutta l'eternità amén amén grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti